vado a farmi la doccia no scusa cosa stai facendo? sono andato a farmi la doccia io e io pure potevi farla prima sei stato fino ad ora col telefono senza far niente tanto ci impiego 5 minuti al massimo vai nel bagno più piccolo pure io faccio veloce e poi l'altro bagno non mi piace è troppo piccolo dai io che devo uscire dai va bene sei arrivato per ultimo però Anna!